Pank 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 Come me fai? Ado me esci? M'nesco che me che ragione? Turisti stanno Ma noi no Che torri? Noo siamo anziani ph flame oh oh ah oh ah non è giù a vai da parla, ciò fare scarci si trova più là no che là oh, chi è un gol e mi tangi con me non ti incamina le cose del mondo e le cose del mondo non è giù a vai da parla, ciò fare scarci si trova più là no che là oh, chi è un gol e mi tangi con me non ti incamina 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 mi sento tutti stancati la vita la vita è una caca è una caca la vita è tragica non si può andare avanti più 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 ma sempre o meno mi sento tutti mi sento tutti tu rischi non c'è questa ecco mamma mancia ecco mamma mancia no, venite domani domani non ti incamina chi è l' szczeri io ancora c'è la ładuna e quello la tra tra gli fischi ha tre e non può rimanere uomo esere E diputate esere E si dice che così ha da me Ci hai detto, ci hai detto, non dègnuna sora, non dègnuna mamma, che cosa hai detto? Ci hai detto che mi canto da vicino a cui puoi, che cosa hai fatto? La pressione ha chinghiottato, ha chinghiottato, ha chinghiottato, ha chinghiottato Va da parla, so fare scherci, e trovo qui là, no creo là, oh, pickupete, e mi tangi un men Non c'è un camminare, dopo che i mondi che ti dana non ci vuole da, non c'è un po' Va da parla, so fare scherci, e trovo qui là, no creo là, oh, pickupete, e mi tangi un men Non c'est un camminare. Per quanto riguarda le montagne. Non c'è un amaziente. Noi c'è un amaziente. Il governo, il suo poche di terra. Non dite. Il suo vecchio, ma credo, il suo contatto. Il nostro amico. Ah, ah, ah